Questa è stata una partita molto combattuta, la sua squadra non ha demorso mai. Il risultato finale, le chiedo se va stretto o un risultato giusto secondo quello che l'ha visto. Il risultato va stretto. Dispiace, dopo tre vittorie consecutive, è arrivata questa sconfitta in merita. Purtroppo la squadra, i ragazzi hanno giocato benissimo. Hanno venuto la palla alla fine per pareggiare, una traversa, un gol non fatto dall'attaccante Villani. Dispiace, quindi il pareggio sarebbe stato più giusto. E' una squadra che continuerà a lottare sicuramente fino alla fine di questo campionato per ottenere la salvezza. Certo, noi ci crediamo. La prossima partita arriva all'Altamura. Cercheremo in tutti i modi di prepararla bene e di vingerla. Ripeto, noi ci crediamo e aspettiamo questa vittoria che arriverà l'america prossima. Speriamo bene.